All'Aquila si può parlare di terza ondata. All'ospedale, dopo i ricoveri di pazienti del Pescarese e del Chietino, sono ripresi anche quelli dell'area aquilana. Preoccupano alcune situazioni, come ad esempio quella di Pizzoli, dove il numero di positivi in alcuni giorni è lievitato, salendo a 91. L'aspetto significativo è che c'è l'intenzione però di far correre la campagna vaccinale. Il dottore Enrico Gianzante, direttore del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL1, ha annunciato che dovrebbero essere distribuiti su tutta la provincia degli infermieri di supporto alle attività di vaccinazione. Si parla di circa 48 unità. Dovrebbero arrivare infermieri, speriamo in termini molto brevi, dovrebbero arrivare anche un numero cospicuo di infermieri. L'importante è che venga fatta scorrere la graduatoria e che le persone accettino rapidamente. Al momento in provincia si riescono ad effettuare circa 1200 vaccinazioni al giorno. L'obiettivo è di portarli a 2500, sperando nell'arrivo di dosi sempre più numerose. I vaccini al personale sanitario sono terminati e proseguono anche alle altre categorie. Fa il punto il dottor Gianzante. Per lui è l'obiettivo, è vaccinare entro l'autunno il 70% di popolazione. Ormai gli operatori sanitari sono stati vaccinati praticamente tutti, con prima e seconda dose. Sono andate molto bene anche le vaccinazioni delle case di riposo, dell'RA e dell'RSA. In moltissimi casi abbiamo completato tutte e due le dosi. Stiamo completando quella che è un po' la zona che ha un minimo ritardo, che è quella di Sulmona, ma a breve la completeremo. Abbiamo iniziato, come ben sapete, gli ultraottantenni, che sono tanti e che vogliamo vaccinare tutti. Stiamo vaccinando gli insegnanti a ritmo serratissimo. Abbiamo praticamente la lista che ci è stata fornita dalla Regione. La prima lista è stata addirittura completata con la prima dose di AstraZeneca. E siamo pronti a finire anche le ulteriori liste che ci verranno dati. Stiamo vaccinando le forze dell'ordine, stiamo vaccinando i vigili del fuoco, stiamo vaccinando la polizia penitenziaria e i detenuti. Siamo molto soddisfatti. Il problema è che noi dobbiamo mantenere con i vaccini Pfizer e AstraZeneca un 30% di dosi di riserva per poter somministrare la seconda vaccinazione. Con AstraZeneca abbiamo chiaramente un margine superiore perché possiamo arrivare a tre mesi. Più vaccini ci arriveranno, più riusciremo a andare avanti e rapidamente.